Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologie spiegate in modo semplice e comprensibile per tutti. Spero che abbiate passato delle buone feste, nel video di oggi non andremo a recensire nessun prodotto ma voglio semplicemente portarvi una piccola anteprima di un regalo che mi sono comprato proprio in vista di questo Natale. In particolare mi sono comprato un monopattino elettrico, il nuovissimo Navi V25i Pro, che è un prodotto molto interessante perché è totalmente legale, visto che monta gli indicatori di direzione, ha un motore che rispetta la potenza massima di legge e soprattutto nella parte posteriore ha già un piccolo portatarga che come sappiamo diventerà obbligatoria nei prossimi mesi anche in Italia, molto probabilmente insieme all'assicurazione per i monopattini ma non per le biciclette elettriche. Visto che questo prodotto ve lo sono regalato per Natale, quindi pochissimi giorni fa, non ho ancora avuto modo di testarlo a fondo, però allo stesso tempo penso che sia un dispositivo molto interessante, quindi in questo video andremo a fare insieme l'unboxing, a vedere le sue caratteristiche tecniche e in generale a fare una panoramica a 360 gradi di questo dispositivo. Tutto questo chiaramente aspettando la recensione completa che come sapete mi richiede almeno due o tre settimane. Detto questo direi di non perderci in chiacchiere e vediamo subito l'unboxing di questo interessantissimo monopattino elettrico. Allora questa è la confezione del monopattino, direi di andare subito a vedere cosa c'è all'interno. Allora confezione aperta, vedete molto ben imballato c'è il monopattino protetto da questi blocchi di polistirolo e ovviamente tutta della plastica che evita che si vada a rovinare durante il trasporto. Qua invece abbiamo la classica manualistica e i cavi che ci permetteranno di andare a caricare la batteria del monopattino stesso. Ma adesso andiamo a tirarlo fuori dalla scatola. Ed ecco qua il monopattino, come vedete è abbastanza leggero quindi si può tranquillamente tirare fuori anche da soli. Andiamo a togliere le ultime plastiche e poi andiamo a vederlo nel dettaglio. Ed eccoci qui con il nostro monopattino, guardate quanto è bello ma soprattutto quanto è compatto. Ci sono alcune particolarità molto interessanti che vale la pena di segnalare. Allora prima di tutto le ruote da 10 pollici, posteriore e quella anteriore, entrambe vanno gonfiate. Quindi c'è chiaramente il rischio di foratura ma questo permette allo stesso tempo di avere una migliore ammortizzazione. Ci sono poi vari catari frangenti nella parte anteriore e anche in quella posteriore. Il comodissimo cavalletto per il supporto. Per quanto riguarda le caratteristiche abbiamo un motore che arriva a potenza massima di 600 watt ma normalmente la potenza erogata è pari a 300 watt. Un bellissimo display da 4 pollici che andremo a vedere tra pochissimo. Le ruote da 10 pollici le abbiamo già viste. Chiaramente supporto all'applicazione. Protezione IPX5 contro acqua e schizzi e chiaramente le luci. Qui nel frontale il sistema di aggancio e sgancio rapido del manubrio. Lo abbiamo già visto su altri modelli simili di Navi e funziona molto bene, è molto solido ma una delle particolarità più interessanti riguarda questa parte del manubrio che come vedete è assolutamente parallela al resto del corpo del monopattino. Questo gli permette fondamentalmente di occupare molto poco spazio sia in casa che in macchina che sui mezzi pubblici. Chiaramente materiali e design sono i classici di Navi quindi veramente molto belli, molto eleganti. Questo colore grigio scuro barra nero è veramente eccezionale soprattutto perché nasconde eventuale polvere e sporcizia ma poi perché lo rende veramente molto moderno. Bellissime anche le manopole gommate che chiaramente vanno a migliorare la presa. Ovviamente sia a destra che a sinistra sono presenti le frecce. Qui sulla pedana abbiamo l'ingresso per caricare la batteria e guardate questa bellissima pedana gommata che ci permette ovviamente di guidarlo in massima sicurezza. Giriamo dall'altra parte, qui abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento e quello per gestire le luci. C'è poi chiaramente l'acceleratore a pulsante per gestire la velocità. Questo è lo schermo da 4 pollici ma lo vedremo tra poco acceso. Fanale anteriore con catarifrangente. Ovviamente non manca il campanello, la manopola dei freni e guardate qua il gancio che permette di attaccare il manubrio alla ruota posteriore per rendere questo monopattino molto più comodo da trasportare. Chiaramente non può mancare il fanale posteriore e un'altra piccola chicca, qua c'è lo spazio per andare ad applicare la targa. Ecco guardate anche quanto è solido il meccanismo che va a bloccare e sbloccare il manubrio nella parte inferiore, basta trascinarlo verso l'alto ed ecco che possiamo piegare o raddrizzare il manubrio. Come vi dicevo però, una delle particolarità più interessanti è la possibilità di raddrizzare o piegare anche la parte finale del manubrio. Basta premere questo pulsante, il manubrio si sblocca, lo possiamo ruotare e ribloccare nuovamente in modo incredibilmente facile e veloce. Questo invece il campanello, proviamo a sentirlo, insomma bello forte e chiaro. Veramente molto semplice poi anche l'utilizzo delle frecce perché abbiamo qua i pulsanti destro e sinistro, non dobbiamo fare altro che premerli per attivarle, guardate, in questo caso si accende la freccia a sinistra con questo bip che ci segnala l'accensione, così la spegniamo e così possiamo accendere quella destra e sempre il bip che ci segnala l'accensione. Questo invece è il suo schermo da 4 pollici, veramente molto ben leggibile, abbiamo la velocità con i chilometri orari, la batteria residua e la modalità di guida attiva. In questo caso possiamo accendere o spegnere i fanali e premendo due volte possiamo cambiare la modalità di guida. Ecco una cosa super interessante è che nonostante nella sua confezione sia presente l'accessorio per eventuali regolazioni non è stato praticamente necessario fare nulla, se non tirarlo fuori dalla scatola, andare a raddrizzare il manubrio e fissarlo grazie ai due ganci che sono presenti appunto sul manubrio. Per la prima volta non ho dovuto perdere tempo ad avvitare nulla, lui è praticamente già pronto appena esce dalla confezione e tra l'altro ci sono circa 10-11 km di autonomia quindi volendo si potrebbe subito partire e utilizzarlo in giro per la città. Bene ragazzi con questo breve video abbiamo concluso, se avete qualsiasi dubbio o domanda sul prodotto fatemelo sapere qua sotto nei commenti, in questo modo quando andrò a fare la recensione vi risponderò in modo ancora più chiaro e approfondito. Ovviamente se non volete perdervi la recensione di questo monopattino non dovete far altro che iscrivervi al canale, a voi non costa nulla e non appena pubblicherò il video riceverete una notifica direttamente dal vostro YouTube. Se questo video vi è piaciuto o stato utile come sempre fatemelo sapere lasciando un like, a voi non costa nulla ma per me è fondamentale per continuare a far crescere questo canale. Detto questo vi ringrazio per la visione e vi do chiaramente appuntamento al prossimo video e alla recensione di questo monopattino. Un saluto e alla prossima, ciao da Riccardo.